ando per la clinica san michele prime operazioni di messa in sicurezza dai rami che potevano in qualche modo mettere a rischio e poi faranno i lavori interni ecco guardate come efficace con il casco le mascherine stiamo seguendo anche oggi i lavori in questa clinica che ha visto nascere tanti di noi da lì esco la calama se il parcheggio ma io sto facendo lì ecco ecco